Ciao a tutti! Oggi prepareremo la granita gelsi. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 3 minuti. Gli ingredienti sono gelsi, ghiaccio, zucchero e la panna già montata in una nostra precedente ricetta. Diamo il via alla ricetta. Inseriamo all'interno del boccale lo zucchero. 10 secondi, velocità 10. Riuniamo sul fondo. Uniamo i gelsi. 10 secondi, velocità 10. Abbiamo ottenuto il zucchetto. Adesso andiamo a mettere il ghiaccio. Chiudiamo. E andiamo a mettere un minuto. A velocità 10, spadolando. La granita è pronta. Andiamo a versarla in un bicchiere. Granita gelsi con panna. Grazie e alla prossima ricetta.